Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo zaino da trail di Decathlon, modello Evadict da 10 litri. Andiamo veloci perché ci sono un sacco di cose da dire su questo zaino e sono sicuro che ne resterete sorpresi, tanto me quanto vi dirò il prezzo finale. Ma iniziamo parlando del peso di questo zaino. Pesa 240 grammi, che per uno zaino da 10 litri, secondo me, ci sta. È nella media della categoria di mercato, quindi, confrontandolo anche con altri zaini, il peso è giusto. Esistono diverse taglie, XSS, ML e XL, e questo è veramente ottimo per farcelo calzare al meglio addosso ed evitare che balli, ma di questo poi ne parliamo dopo. Iniziamo, come al solito, a parlare della parte anteriore di questo zaino, che forse è anche la più interessante. Per quanto riguarda l'acqua, la possibilità di trasportare dell'acqua, abbiamo la possibilità di mettere due flasche da 500 ml l'una, una sul singolo spallaccio. Come vi dicevo, possiamo mettere una flasca destra, una flasca sinistra. Le flasche non ballano, perché abbiamo un cordino posto qua sopra alla flasca da andare a richiudere attorno al beccuccio della nostra borraccia. E vi assicuro che non ballano per nulla. Anche da completamente vuote, il cordino fa sì che non ballino. E questa caratteristica mi piace davvero tantissimo, perché io odio quando le flasche ballano. Continuando per quanto riguarda lo spallaccio di destra, troviamo due tasche nella parte inferiore, una posta proprio sulla parte anteriore dove abbiamo il nostro petto, e una invece posta a metà tra la parte anteriore e la parte posteriore, diciamo sul nostro fianco. Queste due tasche sono aperte, non sono chiuse e non si possono chiudere, ma vi assicuro che messe all'interno anche tante barrette, queste non escono. Naturalmente dovremmo metterle in un modo consono, ma utilizzando questo zaino anche per tantissimi chilometri con dentro un bel po' di barrette, vi assicuro che non ne è uscita nemmeno una. All'interno della tasca anteriore poi troviamo anche un fischietto addirittura da 110 decibel, quindi bello potente. Per quanto riguarda poi invece lo spallaccio di sinistra, troviamo la stessa identica possibilità di mettere la flask con l'elastico per far sì che non balli. Qui invece troviamo nella parte inferiore, sopra la flask, una tasca impermeabile chiusa da una cerniera dove porre il nostro telefono. L'ho apprezzata tantissimo perché il telefono è raggiungibile in ogni momento, anche in caso di emergenza. È impermeabile quindi il telefono non si sbagna e si stanno dentro anche telefoni di grosse dimensioni, quindi tasca veramente ben studiata. Continuando nella parte inferiore troviamo le stesse identiche tasche che troviamo nella parte di destra, quindi una tasca sull'anteriore e una tasca invece dove abbiamo il nostro fianco. Anche queste non sono chiuse, abbiamo la possibilità di inserirci dentro tantissime barrette o comunque quello che abbiamo bisogno e vi assicuro che svolgono veramente bene la loro funzione. Diciamo che tra le due tasche di sinistra e le due tasche di destra, a livello di barrette possiamo portarci dietro anche una dozzina senza nessun problema. Ma io ci ho messo dietro anche un piccolo cappellino, ci ho messo dietro anche la torcia, quindi di possibilità di stivaggio vi assicuro ce n'è veramente tanto. Continuo a descrivervi la parte anteriore raccontandovi che abbiamo la possibilità di andare a portare anche i bastoncini, sempre sulla parte anteriore, perché abbiamo due cordini posti, due sulla destra e due sullo spallaccio sinistro, dove andare a richiudere i bastoncini per evitare che ballino e per trasportarli. Chiusura veramente molto semplice però funziona altrettanto bene. La cosa che mi piace di più di questa chiusura è che il cordino inferiore andando da tirare va anche ad avvicinare lo zaino al nostro corpo, quindi comunque c'è un po' di regolazione. Io sinceramente mi sono trovato veramente molto bene, ho utilizzato questo tipo di chiusura per diverse ore a ritmi abbastanza alti quando in una gara c'è bisogno di correre veloce in piano, quindi ho veramente fatto bene anche questo punto. Per quanto riguarda la chiusura sull'anteriore, proprio quella che va a chiudere lo zaino, troviamo tre cinghie poste nella parte pettorale che si possono decidere di alzare o abbassare in base ai bucchi che hai vaddictamesso sulla cucitura. Lavorano bene ma non benissimo, nel senso che dopo un po' di ore, soprattutto se magari corriamo su terreni un po' accidentati, tende un pochino ad aprirsi e dovremo dargli una piccola tiratina. Diciamo che è proprio trovarla con il pagliaio questo, cioè è proprio una finezza, però naturalmente vado a riportarvela. Altro aspetto molto interessante è che come vi dicevo abbiamo in dotazione quando compriamo lo zaino una sacca d'acqua da un litro e sulla parte anteriore dove far uscire la proboscide della nostra sacca d'acqua abbiamo un magnete a cui attaccarla per far sì che questa resti completamente ferma e non balli e non si sposti. Una volta che dovremo bere dovremo semplicemente staccare il magnete con un pelino di forza, ma proprio pochissima, bere e riattaccarlo. In questo modo il magnete terraferma la proboscide d'acqua e non ci disturberà durante la corsa. Continuo a descrivervi questo zaino parlando del suo schienale. Uno schienale, vi assicuro, traspirante. Nella categoria di mercato, nel senso che ci sono zaini sicuramente più traspiranti ma costano anche due o tre volte questo zaino. Per il prezzo a cui viene venduto vi assicuro che la traspirità è veramente buona. L'ho utilizzato in delle giornate a 26-27 gradi, ha sudato pochissimo, quindi probabilmente anche a 30 ai passagradi la sudurazione sarà molto buona. Per quanto riguarda tutta la parte poi di mesh, anche questo fatto molto bene, non dà fastidio, non crea irritazioni. Lo stesso tipo di mesh lo troviamo anche sullo spallaccio. Il suo spallaccio veramente ha una traspirabilità eccellente, quindi fatto molto bene anche lo schienale. La sua durazione mi è piaciuta. Continuiamo ad analizzare questo zaino andandolo a girare così vediamo la parte posteriore. Nella parte posteriore troviamo una sacca singola, nel senso che tutta la parte interna non è separata da nulla. Sono 10 litri, come vi dicevo, possiamo portarci un bel po' di materiale. La chiusura è fatta da una zip con un cordino per fare citarne l'apertura. La zip arriva fino a tre quarti, quindi non apre tutto. All'interno troviamo una taschina dove andare a riporre oggetti che non vogliamo perdere, tipo le chiavi della macchina, le chiavi di casa ed è chiusa la zip. E per quanto riguarda la parte esterna troviamo una tasca a rete posta nella parte inferiore dove andare a riporre magari un secondo strato, una giacca impermeabile, diciamo qualcosa a cui vogliamo arrivare molto velocemente anche in caso dovesse iniziare a piovere senza dover togliere lo zaino. All'interno di questa tasca io ho provato anche a portarci dei bastoncini, non si muovono perché la tasca è comunque bella ampia e lavorano bene anche in questo caso. Ma per quanto riguarda i bastoncini sulla parte posteriore abbiamo la possibilità di comprare a parte una faretra, andare ad attaccarla, ci sono già i puchi prefissati per poterlo fare, però non vi so dire come funzioni perché io non l'ho provata, vi dico solamente che volendo si può acquistare in più. Per quanto riguarda i materiali, io questo zaino l'ho utilizzato per davvero tanti chilometri, come dicevo ci ho fatto una bella gara, in particolare la Campo dei Fiori Trail da 50 chilometri, l'ho tenuto su per diverse ore. Ho voluto apposta passare durante un allenamento in mezzo ai rovi per vedere se lo zaino si strappasse, mi sono riempito di graffio ma lo zaino non si è strappato per nulla, quindi anche il materiale è veramente molto buono e mi ha sorpreso come zainetto. La parte che mi piace di più, vi assicuro, è la stabilità, perché è davvero uno zainetto molto molto stabile, complice la possibilità che abbiamo diverse taglie, la chiusura sull'anteriore, la possibilità di stringerlo nella parte inferiore e complice anche gli spallacci che comunque sono abbastanza grossi, vi assicuro che questo zaino non balla per nulla, anche correrci a 3,45, 4 al chilometro lo zaino non balla, ed è la caratteristica che più ho apprezzato di questo modello. Arriviamo alle conclusioni di questo zaino da trail evadict da 10 litri. Ve lo consiglio, sì, io mi sono trovato veramente benissimo, adesso vi dico il prezzo. Viene venduto a 69,99€, diciamo 70€. E per questa fascia di prezzo veramente è un ottimo, ottimo zaino. Questo secondo me è uno di quegli zaini che potete comprare se siete sia dei principianti che degli esperti che vogliono spendere poco e lo utilizzerete un po' per tutto. Io l'ho utilizzato dagli allenamenti corti a 20-25 km, in cui un gare ci portiamo indietro solo dell'acqua o qualche barretta, a gare in cui invece c'è bisogno di caricarlo. Io ho voluto caricarlo con 4 kg per vedere la stabilità e come trasportava il carico. Vi assicuro che trasporta molto bene il carico. Quindi veramente possiamo usarlo da gare da 30 km anche a 100 miglia, ma ha un grosso range d'utilizzo. E concludo il video volendo correggere una frase che ho detto nell'ultima recensione di uno zaino da trail di Evadict. In quella recensione avevo detto Zaino molto buono, lo utilizzerei per gli allenamenti, ma non in gara. Vado a cambiare questa mia frase e adesso dico Zaino molto buono, lo utilizzerei per gli allenamenti e in questo caso lo utilizzerei anche per la gara, perché vi assicuro è fatto veramente molto bene. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurante esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti